Alberto Bianchieri, sindaco di Sanremo. Problema, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, sembra che la provincia così sia arrivata a presentare un progetto definitivo, quello di Regione Colli. Un progetto che costa 70 milioni di euro, però che dovrebbe così garantire, secondo le dichiarazioni dell'assessore provinciale Ballestra, una sicurezza e un servizio per i prossimi vent'anni. Ci sono però tanti però e tanti punti interrogativi ancora da chiarire. Lei cosa ne pensa? Io penso che innanzitutto noi stiamo lavorando come maggioranza proprio su questo progetto e abbiamo avuto ancora ieri pomeriggio un'intensa riunione per capire bene tutti gli aspetti. È sicuramente un passo importante per il territorio ma sicuramente un passo obbligato. Assolutamente noi dobbiamo uscire fuori da questo discorso delle discariche. Su questo anche stiamo aspettando delle risposte dalla Regione, anche per poter portare i rifiuti tal quale fuori dal nostro territorio. E sono tutti aspetti secondo me determinanti che andranno poi in base alle scelte e anche avere un programma per i pereri di qua sino al 2019. Io credo che questo progetto come ricordavo è un progetto che si parla di circa 70 milioni di euro, sicuramente una cifra da ammortizzare nei prossimi vent'anni che è una cifra enorme. Allo stesso tempo su questo non chiudiamo la porta, faremo le nostre valutazioni. Settimana prossima si valuterà anche un altro progetto di dimensioni e di costi diversi e poi porteremo la pratica al Consiglio Comunale e chiederemo un indirizzo da parte di tutto il Consiglio perché quando parliamo di questi temi non è una questione di maggioranza e minoranza ma è una questione di tutto il Consiglio Comunale. Sono iniziati i lavori per il supermercato delle grandi firme così detto che così c'è ancora in città una discussione soprattutto tra i commercianti sarà utile o non sarà utile? Temol no? Temol in zona armea. Sono incominciate le ruspe, stanno incominciando a pulire e si è visto che è una zona degradata se non altro incomincia a essere pulita e questo è già un fatto importante. Poi presto arriverà anche in Consiglio Comunale il discorso della riqualificazione dell'ex tiravolo perché si parla della creazione di un albergo a 5 stelle lì vicino al camping dei fiori dovrebbe arrivare presto in Consiglio Comunale. A che punto sono queste pratiche? Lei ne sa qualcosa? Ma ormai è una pratica che conosciamo che ricordo sempre a tutti che è una pratica che comunque oggi questa attività può aprire domani nel senso che non c'è bisogno di nessuna pratica del Consiglio Comunale. Quello che passerà, se passerà il Consiglio Comunale è se loro chiederanno una variante urbanistica. Al progetto c'è un ampliamento da 4.800 metri quadrati di attività commerciale a 6.200 o 6.400. È un ampliamento dei parcheggi da 3.000 metri quadrati a 9.000 metri quadrati. Dunque il Consiglio Comunale se sarà sarà chiamato su questo argomento qua, non tanto sull'apertura o la chiusura perché oggi qua... Ci sono già tutte le licenze regionali tutte qua. Da luglio del 2012 ci sono tutte le licenze. Per quanto riguarda invece il tiro a volo è una pratica che è già passata in Consiglio Comunale, è andata in regione e sicuramente quella è un altro tassello, un'altra bandierina importante grazie ai privati, ricordiamoci, grazie ai privati che comunque hanno ancora voglia di investire sul nostro territorio e io credo che anche con la zona di Pian di Poma ci siano delle aspetti interessanti da valutare che ci racconteremo nei prossimi mesi perché sicuramente deve da una zona degradata, nel senso come quella del tiro a volo, ma lo stesso nostro e aree anche nostre dobbiamo assolutamente far nascere qualcosa di diverso e su questo c'è anche l'interesse di qualche privato a darci una mano. C'è il problema sicurezza che è sempre di attualità. In questi giorni ci sono raccolte di firme della zona di San Martino che è una zona molto popolata e molto importante perché è proprio alla porta orientale di Sanremo e poi ci sono altre zone come via Pietragosti dove chiedono maggior sicurezza soprattutto dal punto di vista di maggiore telecamere e anche per la viabilità ci sono dei pazzi che hanno preso le strade urbane così come degli autodromi e quindi sono necessari dei dossi. Lei ha dato una notizia che rinuncia a circa 20.000 euro del suo portafoglio diciamo di sindaco per creare così per portare dei dossi. A che punto è questa operazione urbana? Allora è un'operazione che sembra molto semplice e poi non so come mai diventa complicata qui da noi. Nel senso io è da otto mesi che chiedo ai nostri uffici, al comando della Polizia Municipale, all'ufficio viabilità di inserire, di iniziare, di fare una progettazione all'interno del nostro comune per inserire questi benedetti dossi. Con riguardo a San Martino io concordo e ho ancora detto pochi giorni fa al nostro comandante di vigili che io auspico che si possa trovare una soluzione per mettere un dosso proprio in quel passaggio pedonale perché è pericoloso. Su questo c'è anche un progetto di poter fare una rotonda però su questo è sicuramente che è stato fatto credo dall'Associazione Cittadina che mi è stata proposta circa un mese fa. Io dico oggi iniziamo a mettere dei dossi perché quella è una zona strategica, come in corsi inglesi. Noi oggi stiamo parlando dell'inversione di marce di Via Galilei però su questo dobbiamo anche pensare che ci sarà un aumento del traffico e su questo dobbiamo tutelarlo con dei dossi come in altre zone della città. Su questo ci vogliono le risorse e per questo avevo a disposizione questi credo 17-20 mila euro e ho detto piuttosto mettiamole i dossi che almeno facciamo qualche cosa subito e utile per tutta la comunità. Tra pochi giorni siamo alla vigilia della classicissima di primavera, la Milano-Sanremo la corsa di ciclismo forse più nota non solo in Italia ma proprio in tutta Europa che sarebbe così, è l'anteprima della partenza del Giro d'Italia del 9 maggio la città si sta preparando, ci sono pezzi di strada che verranno riasfaltati quindi forse è la sua prima Milano-Sanremo come sindaco. Sì direi proprio di sì, no? Sorridevo perché grazie a Milano-Sanremo almeno facciamo anche qualche asfalto. No, la Milano-Sanremo è ovviamente la classica, è un'amministrazione importante, un'altra nuova manifestazione prima del Giro d'Italia per tutta la città. l'abbiamo riportata allo storico, ecco l'arrivo da Via Roma e con l'incrocio di Corso Monbello questo sicuramente ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi ma io credo che poi alla fine abbiamo fatto questa scelta, io la condivido e mi auguro soprattutto che anche come oggi il tempo ci assista perché quando saremo c'è una giornata di sole abbiamo già fatto il 50% di successo. Sicuramente, come è successo recentemente con la battaglia dei fiori che è stata veramente una cosa splendida sotto il profilo promozionale veramente il top. Sì, diciamo che in questo momento siamo stati fortunati fino adesso, un pochino anche bravi ma voglio dire durante i cari fioriti avere una giornata di quella tipologia lì che non dimentichiamoci che era previsto il 15 marzo, no? Poi c'è stata la RAI anticiparci per una questione di diretta e siamo stati fortunati perché il 15 marzo c'era allerta una l'8 marzo invece abbiamo avuto una giornata di sole fantastica. Quindi un filotto meteorologico perfetto.